L'emozio Qua potete ammirare altri quadri della mostra Partiamo da questo con il convento, rappresentante il convento Questo quadro a basso rilievo, realizzato sempre con materiale quale polvere di marmo, colla e cemento Con colori idroil Questo quadro è nato idroil Si chiamano così Colori ad olio, olio ad acqua però Sono ad acqua Questo quadro è nato nel periodo natalizio In quel periodo ci fu una grossa nevicata Quindi io volevo fare una bufera di neve Invece poi sulla tela piano piano ho aggiunto colori Invece della bufera di neve è subentata una bufera di colori Poi si è creato questo vuoto al centro E quindi mi è venuta l'idea del convento Tipo bocce di vetro Quelle che si rovesciano e ci esce la nera E quindi l'effetto finale è tipo boccia di vetro Invece gli altri quadri sono raffiguranti personaggi mitologici Abbiamo qui una valchidia Sempre realizzata a basso rilievo Con materiale tipo polvere di marmo, cemento e colla Ed i colori sono idroili e acrilici Il cavallo è realizzato allo stesso modo e anche il guerriero Allora Allora